Ma buongiorno ragazzi, guardate dove vi ho portato oggi, che vista, che vista stupenda! Questo è un appartamento che affittiamo a lungo termine, siamo a Puerto Rico, proprio vicino al mare, onestamente non è tanto lontano, nel centro, siamo a due passi del centro commerciale, il complesso è stupendo, vi farò vedere anche la zona condominiale, entriamo insieme a vedere come è fatto, vamos! A presto! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.